L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Oggi pomeriggio sulla Sicilia, domani la costa ionica calabrese. Questo dicono le previsioni e la nuova allerta lanciata dalla protezione civile. Primo giorno a Cosenza per l'antimafia, che domani toccherà anche Crotone. Auditi anche cinque giornalisti di giudiziaria. Roberto Occhiuto insiste, vuole gestire direttamente la sanità, ma vuole anche gente competente al suo fianco. Secondo dissesto per le finanze del comune di Vibo Valencia, la sentenza dopo 24 ore di riflessione da parte della Corte dei Conti, sezione calabrese. 3 a 1 del Cosenza sulla Ternana. In casa i lupi cominciano ad essere un problema per tutti. E che problema? Positivo problema per lo stesso Cosenza. Un problema anche per chi magari conta di andare in Serie A. Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, dovrebbe essere, anzi, è inutile utilizzare il condizionale. Sarà quella di Reggio Calabria, la provincia calabrese, ad essere interessata in maniera prevalente dal ciclone che è in formazione tra Sicilia e Malta e che arriverà tra stasera e domani, proprio sulla Sicilia e la Calabria. Questo si evince dalla ultima allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile della Regione Calabria, che sul Reggino ha indicato allerta arancione. Gialla, invece, sulla fascia centrale, quindi Vibo Valencia e Catanzaro, ed anche per l'area del Crotonese. Sulla base del bollettino diffuso, per domani, si prevedono piogge e temporali sparsi. Venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Perché questo? Perché abbiamo sentito, fra l'altro, anche il meteorologo di trebimeteo.com, Edoardo Ferrara, si sta, di fatto, sta per nascere, per la verità è già nato in realtà, questo uragano del Mediterraneo, Medicaine, è un nome generico per la verità che sta ad indicare, appunto, questi uragani, a cui, diciamo, negli ultimi decenni sicuramente non eravamo abituati nel Mediterraneo, ma, insomma, dovremmo sempre più fare i conti con Medicaine. Medicaine si sta formando in queste ore a largo del Mar Libico, ma ormai, diciamo, il suo movimento si sta già spostando verso nord. Al momento è un ciclone dalle sembianze tropicali, è possibile che nelle prossime ore, continuando a venire alimentato dalle acque ancora calze nel Mediterraneo, e calde, diciamo, fuori misura, perché la temperatura delle superfici marina nel Mediterraneo è superiore alla media, questo ciclone potrebbe diventare quello che viene mediaticamente definito Medicaine, che è una sorta di abbreviazione tra Mediterranea e Hurricane. Diciamo che le probabilità ci sono, l'allerta maggiore riguarda stanotte e domani mattina, soprattutto la Sicilia sudorientale, quindi in primis il Siracusano e il Ragusano, dove potrebbero esserci piogge torrentiali e raffiche di vento anche superiori ai 90-100 km all'ora, con inevitabili mareggiate sulle coste, ma successivamente questo ciclone dovrebbe, pur perdendo un po' di potenza, spostarsi ancora lievemente verso nord, coinvolgendo anche il Catanese e il Messinese Ionico, e poi parte della Calabria, in particolar modo il Regino Ionico, quello è stato il settore che dovrebbe rischiare il maltempo più severo entro domani sera. Ma dovremmo abituarci a questi uragani nel Mediterraneo, a questi nuovi Medicaid? Allora, diciamo, ci sono sempre stati in passato, questo è doveroso dirlo, magari non hanno interessato il sud, ma sono andati sulla Grecia, però è chiaro che in una condizione di riscaldamento climatico e con il mare più caldo c'è più energia disponibile e sebbene questo non sia da solo sufficiente alla formazione di Medicaid, però contribuisce ad aumentare la probabilità. Adesso a Cosenza cambiamo argomento perché è arrivata stamattina la Commissione parlamentare antimafia, domani sarà a Cortone, auditi ovviamente i vertici istituzionali della giustizia e anche dell'ordine pubblico, quindi prefetti, questori, carabinieri, finanza, eccetera. Ma la particolarità di questa prima giornata è che sono stati auditi nel pomeriggio anche cinque colleghi giornalisti che si occupano in maniera specifica, prevalente e anche con grande professionalità, bisogna riconoscerlo, di cronaca giudiziaria. È iniziata da Cosenza la due giorni della Commissione parlamentare antimafia, guidata da Nicola Morra. Per audire il prefetto Ceramella, il questore Petrocca, il comandante provinciale dei carabinieri Spoto, il comandante della Guardia di Finanza Anastasi ed il capo della sezione DIA di Catanzaro. Nel pomeriggio sentiti il procuratore della Repubblica Spagnolo, il presidente del Tribunale Mingrone, i rappresentanti provinciali di Confindustria, i rappresentanti dei sindacati CGL, Cisle e Will. Poi ancora i giornalisti esperti di cronaca giudiziaria Guido Scarpino, Arcangelo Badolati, Pablo Petrasso, Marco Cribari e Camillo Giuliani. Voi sapete meglio di me che sugli uffici giudiziari che dipendono dalla Corte d'Appello di Catanzaro da più tempo è in corso un'attività di indagine da parte della Procura di Salerno, ex articolo 35, e quindi noi dobbiamo usare massima cautela e dobbiamo ascoltare tutti i soggetti che in qualche modo possono fornirci informazioni. Sempre in Prefettura, Macrotone, venerdì, saranno chiamati in audizione il prefetto Carolina Ippolito, l'ex questore Massimo Gambino, i comandanti dei carabinieri Gabriele Mambor della Guardia di Finanza Luigi Smurra. Nel pomeriggio il procuratore Giuseppe Capoccia, il presidente del Tribunale Maria Vittoria Marchiano, i rappresentanti provinciali di Confindustria CGL, Cisle e Will e i rappresentanti della Camera di Commercio e dell'Ordine degli Avvocati. E sempre a proposito di mafia, d'Indrangheta, è stato condannato a cinque anni per il reato di scambio elettorale politico-mafioso l'ex assessore al bilancio della Regione Francesco Dallarigo, che è rimasto coinvolto nell'inchiesta basso profilo, vedete le immagini, un'inchiesta incentrata su presunti illeciti rapporti tra le cosche che insistono nel crotonese con imprenditori e anche esponenti della pubblica amministrazione. Questo è quanto ha deciso il GUP, il giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro, Simona Manna, al termine di un procedimento che chiaramente si è svolto proprio con rito abbreviato. Dallarigo è stato assolto invece dall'accusa di associazione per delinquere semplice, aggravata dal metodo mafioso. Il GUP ha condannato anche Tommaso Rosa, ritenuto il riferimento operativo dell'Andrangheta di Rocca Bernarda, legato al capo del locale Santo Bagnato. Assolto invece, fra l'altro aveva chiesto la stessa accusa, Luciano Basile, amministratore delegato di Sicur Transport S.p.A., una società di vigilanza privata. Assolto anche il notaio di Catanzaro, Rocco Guglielmo, e Rodolfo Labernarda. Quattordici anni sono stati inflitti invece a Carmine Falcone e quattro anni ad Antonino Pirrello, accusato di essere il promotore di un'associazione per delinquere semplice, aggravata appunto dal metodo mafioso. Mentre il presidente eletto della Regione Calabria, Roberto Chiuto, aspetta di essere proclamato, stamattina il Tribunale di Reggio ha proclamato gli eletti della circoscrizione Sud con il quosente pieno. Sono Giovanni Arruzzolo di Forza Italia, fra l'altro presidente oscente del Consiglio regionale, Giuseppe Mattiani, anche egli di Forza Italia, e Nicola Irto del Partito Democratico. Ma Chiuto, che non è stato ancora proclamato, però insiste molto sul fatto che il governo debba affidargli la competenza esclusiva della riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale. Però dice, non sarò solo, perché insomma accanto a me voglio davvero il meglio che la professionalità istituzionale ed amministrativa del nostro Paese può offrire in questo momento. In attesa della sua proclamazione a presidente della Regione, Roberto Chiuto si porta avanti con il lavoro e pensa già a come affrontare e risolvere la crisi della sanità in Calabria, cavallo di battaglia di tutti concorrente alla poltrona di governatore. Quella sulla sanità è una partita importante che si gioca e non solo perché il costo per tenere in buona salute la Calabria e i calabresi supera di gran lunga la metà del bilancio regionale, ma perché a livello politico risolvere la crisi nel settore apparirebbe come una grande vittoria della politica locale su quella nazionale, alla luce dei vari fallimenti collezionati con gli oltre 11 anni di commissariamento. Occhiuto ha già manifestato l'intenzione di avvocare a sé la gestione della salute pubblica regionale, ma, come scrive oggi la Gazzetta del Sud, lo farebbe facendosi dare una grossa mano da Maurizio Bortoletti, un ex ufficiale dei carabinieri che in questo settore sembra disporre di una sorta di bacchetta magica. E lui, che da commissario all'ASP di Salerno in pochi anni, ha risolto una voraggire economica portandola addirittura ad una chiusura in attivo, riportando i livelli essenziali di assistenza sanitaria nella provincia partenopea a quelli standard del resto del paese. D'altronde, se i vari commissari che si sono alternati avevano poco nulla a che fare con bilanci e scartoffi in campo sanitario, Bortoletti sicuramente non partirà a zero e proverà a mettere a disposizione della disastrata contabilità sanitaria della Calabria tutta la sua esperienza maturata in Campania, purché lo stesso ex ufficiale dei carabinieri accetti la proposta di Roberto Occhiuto che li ha fatto nel corso di un recente incontro a Milano. E poi c'è da ragionare ancora su un miglioramento qualitativo complessivo, fra l'altro, del piano vaccinale qui in Calabria e se ne occupa anche l'ufficio del commissario alla Sanità. Ottimizzare l'organizzazione vaccinale anti-covid in Calabria è stato questo il tema centrale della riunione svoltasi tra la struttura commissariale alla Sanità, la protezione civile regionale rappresentanti delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Al centro dell'incontro la volontà di dare un nuovo assetto al sistema dei vaccini contro il coronavirus partendo da alcune valutazioni. Aver ormai vaccinato l'81% della popolazione calabrese vaccinabile, il bisogno di reintegrare il personale sanitario nel proprio abituale posto di lavoro per migliorare la cura degli assistiti, l'importanza di razionalizzare la spesa pubblica e ancora la necessità di ripristinare la destinazione d'uso di alcuni edifici e, ad esempio, palazzetti dello sport, palestre, trasformati in questi mesi in punti vaccinali che vuol significare anche riprendere le piacevoli abitudini sociali che il covid ha congelato per un lungo periodo. Per far questo si punta alla ottimizzazione degli hub vaccinali, chiudendo quelli che stanno registrando pochissime somministrazioni ormai da diverse settimane, che non giustificano quindi l'impiego eccessivo di risorse, soprattutto umane, e rafforzando quelli nevralgici a partire dal lunedì 8 novembre. Le strutture ospedaliere, invece, continueranno ad effettuare le vaccinazioni per i propri assistiti, ma non più per l'utenza esterna. Dieci giorni di tempo dati per effettuare una riorganizzazione ottimale che non incida negativamente sulla regolare somministrazione delle terze dosi. La proposta avanzata è stata ampiamente discussa con il sistema sanitario regionale. L'elenco dettagliato degli hub vaccinali, che rimarranno aperti e saranno rafforzati, verrà reso noto all'inizio della prossima settimana. La Corte dei Conti ha bocciato il piano finanziario presentato dal comune di Vibo Valenza, dunque si apre ufficialmente la strada al secondo dissesto dell'ente locale, dopo quello certificato nel 2013. A nulla dunque sono valse le azioni messe in campo dall'amministrazione di Maria Limardo, che si è affidata all'assessore al bilancio Maria Teresa Nardo per la predisposizione di un piano di rientro dal debito da 24 milioni di euro e poi sono diventati 61. Piano di rientro che però non ha trovato conforto nei giudici contabili. La decisione della Corte è stata comunicata stamattina allo stesso primo cittadino dopo una riserva di 24 ore da parte dei magistrati. La cronaca a 900 le piante di marijuana sequestrate alla mezzia terme nel corso di alcuni controlli dei carabinieri. Le piante erano in un appezzamento di terreno il cui proprietario aveva dichiarato di produrre canapa sativa. Appariva come una normale coltivazione di canapa industriale ma in realtà i parametri che ne consentivano la produzione erano notevolmente superiori e tali da catalogarla come marijuana. Per questo motivo i carabinieri di la mezzia terme non c'era terinese nel corso di alcuni controlli hanno individuato in località Persicara un appezzamento di terreno soggetto a vincolo paesaggistico ambientale dichiarato di notevole interesse pubblico in cui erano state messe a dimora circa 1500 piantine presumibilmente di cannabis sativa da parte di un imprenditore agricolo. I militari dell'arma hanno prelevato i campioni e dopo le analisi sulle piante è emerso che le piantine di cannabis avevano una concentrazione altissima di THC. I carabinieri così hanno proceduto al sequestro di più di 900 piante, al sequestro di circa 1700 grammi di cannabis già essiccata e anche al sequestro dell'intera superficie utilizzata per la coltivazione estesa su oltre 5000 metri quadri. Le piante di cannabis sono state distrutte sul posto e i soggetti coinvolti, un imprenditore agricolo e un bracciante, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di coltivazione legale di sostanze stupefacenti. Due regioni, tre province, quindi Calabria, Basilicata, le tre province sono Potenza, Matera e Cosenza, dunque un territorio complessivo di 140 mila abitanti in cui insiste, insisterà, si spera, il distretto del cibo del Pollino. Servizio. Ci sono i numeri per l'avvio del distretto del cibo Pollino e quanto emerso a Castrovillari dall'Assemblea del Comitato Promotore, un distretto che interessa due regioni, Calabria e Basilicata, tre province, Potenza, Matera e Cosenza, unico distretto che ha un areale ampio quanto tutto il Parco Nazionale del Pollino, 67 aziende e 15 delle quali hanno un prodotto lordo vendibile superiore a 5 milioni di euro, un territorio che ha circa 140 mila abitanti, un rapporto azienda-lavoratori dipendenti pari a circa mille unità, un'ipotesi di investimento imprenditoriale innovativo. Un territorio che non aspettava altro che potersi confrontare su una regione fisica che è quella appunto che viene coperta dall'area del Parco Nazionale del Pollino. Si ragiona quindi con il versante lucano da molto tempo, un versante lucano che ha già avuto non solo il riconoscimento ma anche la partecipazione ai bandi del MIPAF per quanto riguarda i distretti, in particolare il distretto Lagonegrese che fa parte come territorio sostanzialmente di questa nuova proposta. Importante e fondamentale il ruolo tecnico che ha svolto il GAR Pollino in quest'operazione di abilitazione al sistema produttivo interregionale di Green Economy. È forte la proposta perché si è realizzato un mix straordinario tra le istituzioni, i comuni, il parco, altri enti istituzionali, però c'è dentro tanto associazionismo e ci sono dentro gli imprenditori, quelli veri, quelli che in questi anni hanno creduto molto sui due assi strategici di questo nostro territorio, l'agroalimentare di qualità e la filiera del turismo sostenibile. Abbiamo messo in campo un bel progetto di sviluppo del territorio per quanto riguarda il settore dell'agroalimentare, così il presidente del GAR Pollino, Domenico Lopolito. Adesso la regione dovrà valutarne, riteniamo che il lavoro sia degno di approvazione, non è un fatto automatico, alla luce anche di quelle che sono le indicazioni di una vasta area e noi siamo l'unico che ha coinvolto anche la regione Basilicata e più province all'interno dello stesso progetto. Quindi il primo step sarà l'approvazione, poi il decollo di questo distretto del cibo dipende da noi. Adesso parliamo anche del nuovo arcivescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Attilio Nostro. C'è un dono molto bello, particolare per lui, realizzato dal maestro d'arte ora fa in Crotone, Michele Affidato. Ancora un'opera sacra realizzata dall'orofo crotonese Michele Affidato. Si tratta della croce pettorale di Monsignor Attilio Nostro, arcivescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, insediatosi ai primi di ottobre. Si tratta di uno dei simboli che accompagneranno la missione pastorale del nuovo vescovo. Per la sua prima uscita ufficiale Monsignor Nostro ha scelto la messa di ringraziamento per la beatificazione di Don Francesco Motto, la celebrata nel Duomo di Tropea, alla presenza di autorità religiose, dell'amministrazione comunale, di autorità civili, militari e ovviamente di numerosi fedeli. La croce in argento, laminata in oro, realizzata in stile bizantino e cesellata interamente a mano. Nella parte centrale è stata raffigurata la Madonna di Romania, patrona della città di Tropea, mentre nei quattro lati sono state incastonate quattro pietre di topazio azzurro naturale che vogliono significare l'azzurro del mare di Tropea. La croce pettorale, dono dell'amministrazione comunale che ha così salutato l'ingresso di Monsignor Nostro, è stata consegnata all'arcivescovo al termine della Santa Messa dal sindaco Giovanni Macri, assieme al maestro orafo affidato, insignito da poco più di un mese, della cittadinanza, onorare proprio del comune di Tropea. A chiudere lo sport con la bella vittoria del Cosenza al Marulla contro la Ternana. Tre reti ad uno, i particolari nel servizio. La legge del Marulla non risparmia nemmeno la Ternana, una delle formazioni più in salute del torneo. Il Cosenza ha ridimensionato la formazione di Lucarelli che veniva da due vittorie di fila con otto gol segnati e lo ha fatto con un avvio a full micotone. Otto minuti e le fere erano già al tappeto sotto di due gol. Al terzo Ghiringhelli non è stato particolarmente fortunato su un tiro di Bittanti dopo un'incursione di caso. La sua deviazione risulta fatale per gli Annarilli e dopo cinque minuti Cori beffa la retroguardia a Umbra presentandosi solo davanti al portiere fulminandolo con un preciso sinistro. Gara in discesa per i ragazzi di Zaffaroni mentre Lucarelli forse avrà rimpianto la scelta di operare un corposo turnover. La Ternana per le squadre che fa del possesso palla una religione ma in casa Cosenza tutto ciò non funziona anche se Mazzocchi, colpevolmente lasciato libero di ricevere, controllare e tirare in porta, accorce al ventitresimo. Il gol subito non intacca la psiche dei padroni di casa che si rendono ancora vericolosi con Florenzi che da fuori aria per poco non trova un super gol. Iannarilli si fa aiutare dal palo per evitare la terza capitolazione. Nel secondo tempo Martella e compagni mantengono solamente il possesso della palla, sono maggiormente presenti nella metà campo rosso-blu che però sono brave a ripartire con veloci contropiedi. Vigorito sembra essere più attento rispetto all'ultima volta al Marulla contro il Frosinone e quando Zaffaroni decide di metterlo in campo Millico l'ex Granata impegna pochi minuti per guadagnarsi la pagnotta. E' Gori che lo pesca con un pregevole passaggio nel cuore dell'aria e per lui è facile realizzare il 3-1 e in pieno recupero Vigorito riesce a parare per ben due volte un rigore calciato da Donnarumme fatto ripetere su segnalazione della VAR. Abbiamo aperto con questa notizia, ci chiudiamo pure naturalmente, bisogna capire che tempo farà nelle prossime 24 ore, lo facciamo grazie alle riflessioni di trebimeteo.com. Amici trebimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che attenzione rischia di essere ancora molto delicata nelle estreme regioni meridionali per l'insistenza di questa zona di bassa pressione particolarmente profonda che porterà nuove piogge molto abbondanti soprattutto in Sicilia e in Calabria. Controviamo la nuvolosità attesa dai nostri parti con le nuvole che interessano appunto le estreme regioni meridionali ma in qualche modo si estendono anche a tutto il versante tirrenico ma in realtà il grosso, ripeto, rimane all'estremo sud. Lo vediamo anche dalle precipitazioni con i fenomeni più diffusi e più intensi sulla Sicilia e sulla Calabria. Qualche goccia di pioggia potrebbe ancora interessare la Sardegna e poi raggiungerà anche la bassa campagna e la Basilicata. Quindi in definitiva ci attendo venerdì sostanzialmente bello al centro nord e con clima diurno anche mite. Bello anche sul basso Adriatico e invece nuvole nel resto del sud, Sicilia e Calabria con piogge anche forti, qualche pievasco ancora sulla Sardegna tirrenica e a fine giornata vi dicevo qualche pioggia raggiunge anche la Basilicata. Inoltre attenzione al vento che soffrirà forte al sud. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Per questa edizione è tutto, adesso vi lasciamo la nostra prima serata, non cambiate canale, restate sul 18, noi ci vediamo intorno alle 22.30, 22.45. La buona serata.